Perché conviene coltivare un seguito di clienti, di potenziali clienti sui social media? Io in questo momento sono negli Stati Uniti, sono in Arizona, a una riunione del mio gruppo Mastermind americano, sono a Phoenix, per cui in questi giorni vedrai probabilmente dei video un po' diversi da quelli che pubblico di solito e la cosa che farò sarà cercare un pochino di trarre degli spunti dalle cose che discutiamo qui nel Mastermind e quindi di dare un pochino una vista, una visione dal dietro le quinte di alcune cose che magari vengono fuori interessanti qui nella riunione del Mastermind. Una cosa che discutevamo ieri sera con i primi, io sono appena arrivato, sta per iniziare il primo giorno di riunione, però ieri sera già mi sono incontrato con alcuni miei compagni di Mastermind e chiacchieravamo qui insieme la sera e una cosa che veniva fuori era il discorso del seguito sui social media. Dicevamo, ma perché è importante avere, così importante avere un seguito sui social media? Quali sono veramente gli elementi interessanti? Beh, dunque, innanzitutto un seguito sui social media è una lista di contatti, è un'altra lista che vieni ad avere. Quindi, oltre alla lista di email, oltre quindi alla lista con cui fai il tuo marketing tradizionale, è importante andare a sfruttare un po' tutte le piattaforme possibili dove puoi avere delle liste di contatti con cui a cui inviare i tuoi messaggi, a cui inviare i tuoi contenuti. Quindi è un'altra lista di email, avere un seguito su Facebook, avere un seguito su YouTube, avere un seguito su Instagram e così via, su tutti quanti i canali dove è possibile comunicare le persone e bene essere presenti nel momento in cui si fa business. E, fra l'altro, i social media non consentono solo di avere un seguito, ma consentono anche di pubblicare contenuti per coltivare la relazione con queste persone. È cosa assolutamente normale, ad esempio su Facebook, pubblicare contenuti anche multiple volte al giorno, due, tre, quattro, cinque volte al giorno, su Twitter la stessa cosa, su Instagram la stessa cosa, le persone si aspettano che tu pubblichi dei contenuti, quindi il modo atteso che le persone che ti seguono si aspettano che ti comporti è proprio che tu gli invii contenuti. Quindi questo è molto utile per coltivare una relazione con il tuo pubblico, per stargli davanti agli occhi. E quindi questa è tutta la parte, diciamo, di messaggio, di marketing, però un'altra cosa di cui discutevamo molto importante ieri sera è che i canali social finiscono anche per diventare degli elementi di autorità. Cioè se io ho 10.000, 20.000, 50.000 mi piace su Facebook, ecco che le altre persone lo vengono a vedere. Se io ho 10.000 iscritti al mio canale YouTube, ecco che le altre persone lo vengono a vedere. E vale anche il rovescio della medaglia. Nel momento in cui vengo ad avere troppi pochi follower, magari qualcuno sta pensando di fare business con me, viene sul mio canale o sulla mia pagina Facebook, vede che non mi segue nessuno e comincia a chiedersi ma questo business è un business reale, è un business interessante, è un business che funziona, vale qualcosa oppure no? Quindi è molto importante oggi sempre di più coltivare un seguito per farlo diventare un elemento di autorità, per far vedere che ci siamo, per far vedere agli altri che abbiamo un pubblico di persone che si sono fidate di noi e che ci stanno seguendo e molto spesso avviene che sulle piattaforme social per un business ha senso investire del denaro, del denaro in pubblicità, non per comprare i mi piace, ma per fare pubblicità e arrivare quindi ad estendere la propria portata così da avere un numero maggiore di persone che ci seguono, un numero maggiore di persone che hanno fatto mi piace sulla nostra pagina anche solo per poter dire guarda ho 10.000 mi piace, ho 20.000 mi piace, ho 50.000 mi piace quindi un seguito sui social è una lista di contatti molto molto importante per fare business sono canali social che ci permettono in maniera naturale di coltivare una relazione con questi contatti che ci seguono e anche al di là della relazione, anche al di là del fare marketing con questi contatti comunque i canali social ci permettono di dimostrare autorità nel momento in cui abbiamo un certo seguito io sono Marco Scabia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog vai su www.marcoscabia.com poi lasciami un commento, lasciami un mi piace, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza viceversa grazie